Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e oggi, chiaramente come avrete sicuramente letto dal titolo, vi voglio parlare di Dr. Stone Se la luce non rompe le balle, comunque Dr. Stone Allora, qui sul computer mi sono segnato giusto i nomi Perché, insomma, per me i nomi giapponesi dicono, è arabo, è giapponese, però avete capito E vi racconterò, chiaramente ci saranno degli spoiler, in breve quello che succede in questo primo volume Non voglio andare oltre, semplicemente perché voglio lasciare a voi scoprire quello che succede Perché se vi raccontassi io, alla fine, quello che succede, se riescono o meno a fare una cosa, non ci sarebbe gusto Già lo sapete, che cazzo ho comprato i volumi a fare Invece no, vi racconterò solo l'inizio e poi starà a voi decidere se il manga merita o meno Partiamo ragazzi e partiamo con leggere qua dietro Allora, in un istante gli esseri umani di tutto il mondo si sono trasformati in pietra Anche lo studente del superiore Taju è rimasto coinvolto in questo misterioso fenomeno Ma dopo migliaia di anni, risvegliandosi insieme all'amico Senku, decide di ricostruire la civiltà da zero Già qui avete una idea abbastanza vaga di quello che vogliono fare Partiamo con il protagonista, che chiaramente è lui Senku Senku è un ragazzo che è il primo che si spietrifica Però lui per tutto il tempo, per i 3700 anni che è stato pietrificato È stato cosciente e ha contato i giorni Per tutto questo tempo Si spietrifica ragazzi ma noi non ci fanno vedere quando si è spietrificato A noi ci fanno vedere Taju che si spietrifica Si spietrifica e vede chiaramente il mondo così com'è ridotto E si preoccupa principalmente per la ragazza di cui è innamorato La ragazza si chiama Kuzuriha Kuzuriha, l'ho dovuto leggere Si chiama così e anche lei è stata pietrificata come tutti Però prima di spietrificare lei, poi vi spiegherò anche come hanno fatto a spietrificarla Si può dire spietrificare? Vabbè, comunque, prima di spietrificare lei Devono per forza spietrificare un'altra persona Il primo che spietrificano ragazzi è Tsukasa Shisho Perché spietrificano lui e non la ragazza? Per un motivo molto semplice In quel momento erano in grande difficoltà Perché erano attaccati da un leone E quindi avevano bisogno di un aiuto E visto che questo ragazzo è considerato il più forte del liceo Spietrificano lui e lui se la vede col leone E lo uccide anche in maniera abbastanza veloce Successivamente ragazzi spietrificano anche la ragazza Ma io perché vi sto raccontando questa cosa dei personaggi? Perché loro sono i protagonisti E vedi? Creeranno anche il treno E io andrò dentro il manga quando creeranno il treno Dicevo ragazzi perché vi sto raccontando questa? Perché il protagonista, ovvero Senku Lui è molto intelligente E lui è una sorta di scienziato E lui con i materiali che trova Riesce a creare Oddio io non me ne intendo di questo genere di cose Però riesce a creare Liquidi, comunque componenti Che servono per Pian piano Ritornare alla civiltà E proprio lui è stato a creare Non posso neanche immaginare l'antidoto Comunque Dio Il liquido che serve per spietrificare le persone E' stato proprio lui a crearlo Chiaramente ragazzi il liceale più forte del liceo E' cattivo Cioè è cattivo nel senso Lui vuole un mondo senza adulti Lui vuole vivere lì ed essere il più forte Non vuole la modernità E quindi si scontra con Senku Chiaramente Senku non sa combattere Decidono ragazzi di scappare Di non rivelare a questo Tsukasa Chiaramente La formula Ecco La formula per Spietrificare le persone Perché lui magari spietrificerebbe Chi gli sta bene a lui Magari dei suoi sottoposti E farebbe tipo un'armata Per conquistare tutto Non è proprio la cosa migliore Chiaramente ragazzi Non vi ho raccontato volutamente Quello che può fare Senku Io vi dico solo che Essendo uno scienziato Lui può ricreare Qualsiasi cosa Qualsiasi Io vi dico che Nei futuri volumi Adesso questo non è uno spoiler Cioè un po' sì Però comunque dovete vedere Come la creano lui Come la crea lui Può creare il vetro Può creare la polvere da sparo Può creare qualsiasi Qualsiasi cosa Ed è qui Che ti fa capire Come l'umanità è cresciuta Quanto ci ha messo l'umanità a crescere Cioè noi qualsiasi cosa vediamo Wow Sì è fatto così Bene Ma noi non sappiamo Quanto tempo ci ha voluto A fare una cosa E questo qui te lo spiega Anche bene Ed è molto molto bello Chiaramente Concludendo questo video Ragazzi Alla fine Decidono di separarsi Senku e Taju Che sono i due ragazzi Che si sono Spietrificati all'inizio Decidono di separarsi E di prendere due strade diverse Per il momento Senku che è Lo scienziato Va da una parte Da solo E intanto Taju e la ragazza Vanno da un'altra E per adesso Non sappiamo ancora niente Di Taju Fa che nome di merda Taju e la ragazza Però chiaramente Noi continuiamo La vita di Senku Incontrerà altre persone Imparerà anche cose nuove Creerà cose nuove Chiaramente ragazzi Chiaramente Io vi invito A magari A dargli una possibilità Prendete solo Il primo volume Perché secondo me A parte che Vabbè I disegni Sono di Boichi Già qui Dovete dire Ok Prendo il primo volume E' vero ragazzi Che la storia Non è di Boichi La storia è di Rikiro Rikiro Inagaki Va bene Però secondo me Merita veramente tanto E vi dico anche Un'altra cosa In Giappone Questo manga qui A parte che è uscito Nel 2017 Cioè Nel 2017 È uscito E in Italia è uscito Il primo novembre del 2018 Ragazzi Quindi vi ho già detto tutto Ma Io credo Come penso anche tanti di voi Che un autore Come Boichi Che sta portando avanti Dr. Stone Sta portando avanti Origin Sta portando avanti Più serie Contemporaneamente Si deve soffermare Più su una Secondo me Origin È un po' spenta Come serie A me sinceramente Non attira Così tanto Non mi piace moltissimo A differenza però di questo Questo è tutta altra cosa Ma proprio perché C'è una storia dietro C'è un racconto C'è Ogni volume Tu dici Cazzo Cosa costruirà Cosa farà In questo volume Cioè Ti interessa proprio Saperlo Origin Insomma Ok Lui è un robot Di cazzi Ed è questo Quello che mi piace A me piace Che ogni volume Che leggo Che sia Ripeto O questo O comunque Quelli di Boichi O anche quelli Di altri autori Che in ogni volume Ci sia qualcosa di nuovo Che mi fa dire Mamma mia Non me l'aspettavo Bellissima sta cosa Voglio sapere Quello che succede Nel prossimo Questo è quello Che voglio io E questo lo fa Devo dire che Ultimamente Escono dei volumi così Eh Anche di altri Autori E Non mi dispiace Anzi Sono molto molto contento Però Questo è un manga Che io consiglierei A chiunque Perché è leggero È divertente E ti fa capire Tante cose Cosa volete più di così E niente ragazzi Io il video Ve lo concludo qui Spero vi sia piaciuto Se è così lo sapete Ragazzi Un bel pollice in su Se non è piaciuto Chiaramente Pollice in giù E Bella Ciao a tutti